Bene, il soprio vitale nella cultura della Cina e dell'India è stato sempre presente, quindi nel mondo occidentale viene conosciuto anche superficialmente, però a livello di energia se viene conosciuto bene può essere una profonda conoscenza interiore. E' un concetto che è molto antico, per esempio che unisce tutte le cose. Il diagramma del C, che secondo Weigert, un filosofo, risulta come un più antico, come un diagramma a livello di vapore, che dalla terra farà formare le nuove Ion, le nuove cosiddette Ion. A form. Grazie a tutti